Ciao a tutti, in questo video vi voglio parlare di vangatura. Sì, quante volte vi sarete trovati nel vostro orto, nel vostro giardino, a dover vangare una piccola pressione di terreno e rendervi conto che si fa molta fatica e quindi per un attimo pensate all'acquisto di un attrezzo e poi ci ripensate perché chissà quanto costa e sono tutti grandi, sono ingombranti. Bene, abbiamo una bellissima proposta, da quest'anno Bertolini propone nel mercato la Moto Zappa 155, una macchina estremamente piccola, molto contenuta anche nei pesi, 27 kg, 45 cm di larghezza di lavorazione, riducibile anche o a 30 o un poco più di 20 cm, quindi modulabile. Ben fatta, motore da 2,4 cavalli e un'ottima trasmissione della potenza, una marcia avanti, però macchina molto compatta, altezza delle stegole regolabili in tre posizioni. E quindi se non volete vangare, non volete far fatica e volete farvi aiutare da un attrezzo costruito da chi poi ci garantisce ricambi, ma soprattutto un'ottima manifattura, venite a trovarmi, ce l'abbiamo già, se siete interessati al prodotto non fate altro che cliccare nel link in descrizione. Un'altra bellissima novità che abbiamo in casa Bertolini da quest'anno, nel periodo delle promozioni, è avere la possibilità di finanziare tutto a tasso zero, con 12 rate e quindi è un'occasione da sfruttare perché anche con un peso di una rata molto basso riesco anche ad acquistare un prodotto che invece ha un costo d'acquisto che è fuori dal nostro budget oppure fuori dalla nostra volontà. Quindi tenete conto anche di questo e se avete intenzione di acquistare un prodotto Bertolini approfittatene anche per questo motivo. Ciao a tutti e buona lavorazione del terreno!